E' stato pubblicato il quinto numero del report strutturale delle startup innovative, curato da Infocamere, relativo al quarto trimestre del 2015, presente anche sul sito startup.registroimprese.it, oltre che sul sito camerale. Per quanto riguarda il reatino, le startup innovative registrate sono sei, di cui quattro con sede a Rieti, una a Vacone, una a Farasabina, appartenenti ai settori produzione di software, ricerca scientifica, industria artigianato, con particolare riferimento alla costruzione dalla stampa e riproduzione. Il report presenta un'ampia gamma di informazioni relative alla distribuzione settoriale e geografica delle startup innovative, al valore complessivo e medio della produzione del capitale sociale, alla redditività e alla presenza giovanile, femminile ed estera nella compagine societaria. Questi risultati sono anche frutto dell'impegno del sistema camerale, in simbiosi con le associazioni di categoria, nella promozione della nascita di nuove imprese, ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini. Ricordiamo il progetto Sirni, Servizi Integrati Reali per la Nuova Imprenditorialità, di cui l'ente camerale reatino è capofila ed il cui bando, che punta allo sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione, allo startup di nuove imprese, è in scadenza il prossimo 19 febbraio.